Nell'esercizio di questo video si richiede di calcolare l'integrale sul dominio i della funzione a due variabili definita da x per y diviso x quadro più y quadro, mentre i è l'insieme delle coppie x y appartenenti ad R2 tali che x sul radice di 3 sia positivo e sia minore uguale di y che assolta sia minore uguale di radice di 3 per x e al tempo stesso x per y non sia compreso tra 1 e 4. L'idea, la strategia che useremo è fare un cambio di variabili per dare una forma più opportuna al nostro dominio i. Innanzitutto facciamo qualche osservazione, la prima osservazione è che qui abbiamo x sul radice di 3 strettamente positivo. x sul radice di 3 strettamente positivo ci dice due cose, una che x è diverso da 0, quindi volendo possiamo dividere per x e l'altra che x è positivo, quindi quando in una disequazione dividiamo per x, siccome x è una quantità positiva non dobbiamo cambiare verso la disequazione. Quindi quello che facciamo è dividere tutta questa prima catena di disequazioni per x e e quello che otteniamo è che 0 deve essere minore di 1 su radice di 3 e deve essere minore di y su x e deve essere minore uguale di radice di 3. Quindi in sostanza ci siamo riscritti il nostro dominio e come l'insieme delle coppie x e y appartenenti ad R2 tali che da una parte y su x è maggiore uguale di 1 su radice di 3 che a sua volta è strettamente maggiore di 0 sempre, quindi è inutile che lo riscriviamo ed è minore uguale di radice di 3 e dall'altra che x per y è maggiore uguale di 1 ed è minore uguale di 4. Quindi il cambiamento di variabili che dobbiamo fare è più opportuno, è evidente adesso, ci basta chiamare questa quantità, la chiamiamo ad esempio t, mentre quest'altra quantità la chiamiamo S. Quindi nel nostro cambiamento di variabili noi stiamo considerando l'applicazione che data una coppia t, s, quindi t varia nell'intervallo 1 su radice di 3, 1 su radice di 3, radice di 3, s invece varia nell'intervallo 1, 4, quindi a una coppia t, s gli associa una generica coppia x, y del nostro dominio i. Vogliamo però esplicitare questo cambiamento di variabili, quindi quello che dobbiamo fare è esplicitare la x e la y in funzione di t ed s. Come facciamo? Beh, partiamo dal fatto che quello che sappiamo noi è che y su x sia uguale a t e che x per y sia uguale ad s, ad esempio esplicitiamo la y in entrambe le equazioni, troviamo che y è uguale a tx e che y è uguale ad s su x. In particolare se mettiamo, se poniamo questa quantità uguale a quest'altra quantità perché sono tutte e due uguale ad y in quello che otteniamo è che tx sia uguale ad s su x, ovvero x quadro sia uguale a s su t. Da cui abbiamo due soluzioni, x uguale a più radice di s su t, x uguale, l'altra soluzione è x uguale a meno radice di s su t. Noi quale dobbiamo prendere? Beh, vi ricordo dall'osservazione fatta che x, da qui, x era strettamente positivo, quindi a noi va bene soltanto la radice positiva. Quindi questa qui non ci va bene. L'osservazione x uguale a radice di s su t possiamo riscriverci come proprietà delle potenze come x uguale alla s alla un mezzo t alla meno un mezzo. Quindi se andiamo a sostituire quello che abbiamo ottenuto è da una parte x uguale s alla un mezzo t alla meno un mezzo e dall'altra parte sostituiamo y uguale, abbiamo detto, dalla seconda equazione s su x e quindi quello che otteniamo è sostituendo x che abbiamo y uguale s alla un mezzo t elevato stavolta alla più un mezzo. Quindi in sostanza il nostro cambiamento di variabili è l'applicazione che alla coppia t ed s associa la coppia s alla un mezzo, t alla meno un mezzo, s alla un mezzo, t alla un mezzo, quindi questo qui è il nostro cambiamento di variabili. Ora, infine, prima di applicare il torama e il cambiamento di variabili, calcoliamoci subito il determinante della matrice giacobbiana, chiamiamo j di phi la matrice giacobbiana, come è fatta la matrice giacobbiana? La prima componente della matrice è semplicemente la prima componente di phi derivata rispetto alla prima componente quindi a t, poi scriviamo nel modo esplicito questa qui è la derivata rispetto a t di phi1 della prima componente di phi, la seconda componente è la derivata rispetto all'altra variabile, quindi la derivata rispetto a s sempre di phi1, poi abbiamo la derivata rispetto a t di phi2 e la derivata rispetto a s di phi2. Quindi se deriviamo rispetto a t la prima componente, quello che otteniamo è meno un mezzo, qui stiamo derivando t elevato alla meno un mezzo, s alla un mezzo invece è trattato come una costante perché è una derivata parziale questa, quindi meno un mezzo, s alla un mezzo, t alla meno un mezzo meno uno, ovvero meno tre mezzi. Poi se deriviamo rispetto a s sempre la prima componente, otteniamo un mezzo, s alla un mezzo meno uno, quindi s alla meno un mezzo, t alla meno un mezzo. Se deriviamo rispetto a s la seconda componente, otteniamo un mezzo, s alla meno un mezzo, t alla un mezzo. Questa qui è la matrice giacobbiana, di cui ora dobbiamo calcolare il determinante, quindi il determinante, la matrice giacobbiana di phi, il determinante è dato dai prodotti incrociati, quindi questo per questo, meno questo per questo, quindi otteniamo meno un mezzo per meno un mezzo fa meno un quarto, s alla un mezzo, t alla meno tre mezzi, per s alla meno un mezzo, t alla un mezzo, e poi meno, il prodotto degli altri due, quindi un quarto, t alla meno un mezzo, s alla un mezzo, s alla meno un mezzo, t alla meno un mezzo. Semplificando quello che possiamo semplificare, allora s alla un mezzo per s alla meno un mezzo si semplificano, così come qua, s alla un mezzo per s alla meno un mezzo. Poi, t elevato alla meno tre mezzi per t elevato alla meno un mezzo, quindi questa quantità qui fa t elevato alla meno tre mezzi più un mezzo, ovvero fa t elevato alla meno uno. La stessa cosa qui, t elevato alla meno un mezzo, per t elevato alla meno un mezzo fa t elevato alla meno un mezzo più meno un mezzo, quindi questo qui è t alla meno uno. Quindi abbiamo ottenuto meno un quarto t alla meno uno, meno un quarto t alla meno uno, possiamo mettere un t alla meno uno in evidenza, meno un quarto e meno un quarto si sommano, e quello che rimane è meno un mezzo, che moltiplica t alla meno uno, ovvero per uno su t. Ok, detto questo, siamo pronti per calcolare il nostro integrale, perché dal torema, il cambiamento di variabili, sappiamo che l'integrale sul dominio i della funzione x per y diviso x quadro più y quadro dx dy lo possiamo scrivere come l'integrale non più sul dominio i, ma sulla controimmagine di i, quindi su questo insieme, sull'insieme 1 su radice di 3, radice di 3 per 1 è 4. Di che cosa? Del modulo, del determinante della matrice giacobbiana del cambiamento di variabili, che moltiplica la funzione f di xy non più calcolata in x con y, ma calcolata in st, quindi al posto di x, abbiamo visto, no, x era uguale a s alla un mezzo, t alla meno un mezzo, y era uguale a s alla un mezzo, t alla un mezzo, quindi f calcolata in s alla un mezzo, t alla meno un mezzo, s alla un mezzo, t alla un mezzo. E questa volta, quindi, l'integrale non sarà più in dx, dy, ma sarà in dx. Ora, al posto di farci questo calcolo qui, facciamo qualche osservazione. La prima osservazione è che x per y l'avamo proprio definita come la variabile s. La seconda osservazione è che questa quantità possiamo riscrivercela come x quadro che moltiplica 1 più y su x tutto al quadrato. Ora, y su x l'avamo definita come la variabile t, mentre x quadro ce l'avevamo calcolato, eccolo qui, x quadro era s diviso t. Quindi questa quantità qui, se vogliamo scrivercela in funzione di s di t, è semplicemente s diviso t che moltiplica 1 più t quadro. Poi, il determinante dello giacobiano ce lo siamo calcolato e abbiamo detto che vale meno un mezzo, eccolo qui, meno un mezzo per uno su t, vogliamo il modulo e quindi è un mezzo per uno su t. Quindi quello che abbiamo è che il nostro integrale è uguale all'integrale. Allora, questo qui, un'ultima osservazione, questo qui è un dominio normale, nel senso che l'integrale su un prodotto cartesiano è semplicemente l'integrale tra, possiamo riscriverlo come l'integrale tra 1 e radice di 3 e radice di 3 dell'integrale tra 1 e 4. Adesso dobbiamo metterci il determinante dello giacobiano, quindi un mezzo per uno su t che moltiplica la funzione che però è calcolata che è dipendente da s da t, che abbiamo detto a essere s diviso s su t per uno più t quadro e poi l'integrale dobbiamo farlo prima in ds e poi in dt. Prima in ds perché chiaramente l'integrale che sta più dentro abbiamo messo gli estremi di integrazione che variano come variava s. S apparteneva all'intervallo 1-4. Ora, questo integrale è abbastanza facile calcolarlo, facciamo tutte le semplificazioni possibili. Questo s lo semplifichiamo con questo s, questo t lo semplifichiamo con questo t. Quello che rimane dunque è l'integrale tra 1 su radice di 3 e radice di 3 dell'integrale tra 1 e 4 di un mezzo che moltiplica 1 diviso 1 più t quadro. L'integrale prima lo facciamo in ds e poi in dt. Quando facciamo quest'integrale, quindi rispetto alla variabile s, abbiamo che questa qui non dipende da s, quindi si comporta come una costante, cioè t è fissato, e quindi quando si comporta come una costante possiamo portarlo fuori dall'integrazione. E quindi quello che abbiamo è l'integrale tra 1 su radice di 3 e radice di 3 di che cosa? Di un mezzo che moltiplica 1 più t quadro sarebbe in dt, il tutto che moltiplica l'integrale tra 1 e 4 in ds. L'integrale tra 1 e 4 in ds è come se stessimo integrando la funzione 1 in ds e quindi questo qui è semplicemente la lunghezza del segmento 1, 4, è semplicemente 4 meno 1 e quindi fa 3. Quindi quello che ci rimane è un integrale in una sola variabile, ovvero 3 mezzi, portiamo questo 1 mezzo fuori e questo 3, questa costante qui fuori dall'integrale, dell'integrale tra 1 su radice di 3 e radice di 3 di 1 su 1 più t quadro in dt. Qual è una primitiva di 1 diviso 1 più t quadro? È semplicemente arco tangente di t, quindi abbiamo 3 mezzi che moltiplica arco tangente di t calcolata prima in radice di 3 e poi 1 su radice di 3, quindi a 3 mezzi. Arco tangente calcolata in radice di 3 è quell'angolo tale che la tangente faccia radice di 3, quindi l'angolo è 60 gradi, quindi pi greco terzi, mentre meno arco tangente di 1 su radice di 3 è quell'angolo tale che la tangente faccia 1 su radice di 3 e quindi tale angolo è 30 gradi, ovvero pi greco sesti. Facciamo i calcoli che dobbiamo fare, quindi qui abbiamo 3 mezzi, minimo con il multiplo è 6, quello che rimane è 2 pi greco 1 pi greco, quindi pi greco sesti, poi questo 3 possiamo semplificarlo con questo 6, rimane un 2 e quindi abbiamo quello che rimane pi greco quarti. Quindi qual è la conclusione? è che l'integrale sul dominio i della funzione xy diviso x quadro più y quadro dx dy ce lo siamo calcolati attraverso un cambiamento di variabile e fa proprio pi greco quarti. Con questo abbiamo concluso.